Ragazzi, sono da Sandoro Allora, quindi, ricominciamo il maschio femmina Femmina, perché ha le alette chiuse E questa ha le alette più piccole E quindi quella è maschietto Belline Ok, perfetto, andiamo sulla femmina, insomma E quale mi consigli di peso Come siamo messi, forse quella più grandicella Vediamo un altro Quindi è proprio quello che mi aspettavo E allora mi sa che facciamo lei, dai Va bene, va bene Tutto è ovviamente molto marinaro E ci sta bene oggi, quindi, a agosto Però faccio un piccolo ingresso Con gli affumicati di tonno Che sono molto buoni E quindi servono molto bene Siamo di fronte al mare, al porto Non è male, è una bella verandina E si sta bene Non è la prima volta che vengo, insomma Accompagno la cena con un buon Iseris Della cartina di argiola E' un asco in purezza Un olvagio che a me piace molto Così la vende molto bene Allora, questo è un bel misto di affumicati di tonno E c'è anche un po' un assaggio di spada Questo è fatto dal padre del proprietario O meglio, dal proprietario del ristorante Ed è il prosciutto di tonno C'è il musciame La bottarga Insomma Non male direi, eh? E io mi concentrerò su questo E vi saluto e vi do appuntamento dopo Ciao ciao! Ecco la regina dei mari Bellissima E' una femmina ovata E' ben preparata Sapientemente preparata Nella casa Non è male Non è male Assolutamente Finalmente sono qua Adesso me la faccio anche tagliare Perché è più comodo mangiare la tagliata E' bella Veramente bella Che dire Ci sta, eh? Un po' di relax Meglio così che in droghe dicono E quindi giustamente I soldi, ragazzi, spendeteli bene Così sono spesi bene Complimenti E' bellissimo E' bellissimo Bene Ragazzi Poi vi dirò Ciao ciao! Ecco la spacchettata ragazzi Abbiamo 650 grammi di nettare degli dei Aragostona ovata La mia prima mangiata della stagione Bene Buona estate ragazzi E buon proseguimento Ciao ciao! La gran bella mangiata Ci sta bene Sembra di stare in vacanza Ve lo consiglio Non è la prima volta che vengo Sia per il misto degli affettati di tonno Che merita la grande E poi ho anche Poi ho comprita la ragosta Che era divina Cucinata molto bene Mi è piaciuto molto Ve lo consiglio Venite qua E poi mi dite Se sbaglio Buona serata Ciao!